Che vuoi? Eculo? No, no, c'è la sua pappa. E' la sua pappa? No, non te la do. Vuoi? Signor figo, dai! No, biscotti dolci, no, se vuoi ci sono quelli per il cane. No, quindi? E' figo, dai. Non ce li fa male, però, eh? Non leccare le mani, però, perché dopo io devo mangiare il mio di biscotto. E' buono?